La terrazza della Darsena Borghese, uno dei luoghi più suggestivi di Fano, porta d'ingresso da nord della città, è stata di recente completamente rimessa a nuovo, sia nella pavimentazione che nei parapetti che da tempo versavano in pessime condizioni, restituendo così al luogo il giusto decoro e risalto che un sito di questa bellezza merita. A questo ci ha pensato l'amministrazione comunale con fondi propri, ma la sottostante facciata dello stabile, che guarda a quello che un tempo era il porto commerciale della città, edificato nel 1600 di forma ovale, che arrivava fin sotto l'attuale albergo Augustus, continuava a versare in brutte condizioni. Lo sterrato antistante infestato dai ratti, i fregi e gli stemmi araldici presenti sulle facciate gridavano aiuto. Prima deposito merci, poi ricovero reti, sede di diverse associazioni, magazzino, questo suggestivo luogo ha subito vicende le più disparate tra loro. Inizialmente era un loggiato, col piano calpestabile ben più basso dell'attuale, ma da qualche anno è la sede naturale, viene da dire, dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Ed è proprio l'associazione, con i propri fondi ed il contributo di privati e piccole imprese e la manovolanza dei suoi soci, che in due mesi e mezzo ha riportato al suo splendore questa parte dell'edificio e ricondizionato, sotto l'occhio vigile della sovrintendenza, anche i suoi spazi interni. Il sogno nostro è quello di riaprire questo monumento ai fanesi, a tutti i cittadini fanesi, che possano fare delle mostre, presentare dei libri, conferenze, quindi dare una vivibilità importante a questo monumento. Quindi questo è il nostro sogno. Io spero che chi ci sente, chi ci ascolta, che magari ha qualcosa di interessante da proporre, ci può chiamare e noi gli apriamo la sede. Domenica 10 agosto, alle ore 18, alla presenza delle autorità civili e militari della città, l'Associazione presenterà alla cittadinanza l'opera portata a compimento, con orgoglio e fierezza, come nello stile dei marinai. Città 13. La sede è stata Francisca. Chi» Chi''